Ciao a tutti, benvenuti in questo primo episodio del 2022 di 5 minuti con. I protagonisti sono i Titans Fusion, il team senior coed del livello 5. Nel mese di gennaio abbiamo avuto con noi Lina e Matyaj, i due coach sloveni che da quest'anno collaborano con Alba CIR. Il loro supporto è stato fondamentale per ultimare le sequenze che poi verranno giunte alla routine. Vi lasciamo ora qualche clip prima di iniziare con le interviste. Sì, 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 sì. Eccoci qui con Luca e Manuela, i coach del team. Allora Luca, si avvicinano le competizioni, come state preparando la routine che porterete in gara? Beh, innanzitutto vorremmo portare in gara la routine più pulita possibile, quindi cerchiamo di prendere ogni singolo elemento e renderlo più pulito e il più perfetto possibile in modo tale da avere una visione di insieme molto bella e accattivante. Ok Manuela, questo mese abbiamo avuto con noi i coach di Cira IQ, su quali aspetti avete lavorato maggiormente? Allora, ci siamo concentrate principalmente sulla costruzione della routine, di modo da avere così in questo mese e mezzo prima del loro ritorno già il lavoro avviato. Allora, ci siamo andati. Siamo qui con Isabella e Filippo, due atleti del team. Allora Isa, abbiamo visto che sei tornata alla grande ad allenarti, come hai reagito all'infortunio di inizio stagione? Allora, all'inizio è stato difficile perché mentalmente era un po' strano, diciamo, stare ferma per così tanto tempo, però in realtà quando sono tornata ad allenarmi ho ricominciato subito a far tutto, anche se avevo un po' male al braccio, però nel male sono riuscita a far tutto abbastanza bene, diciamo. Bene Filippo, sappiamo che farei parte del team Italia, che parteciperà ai mondiali ad Orlando ad aprile. Come riesci a conciliare gli allenamenti del team con quelli della nazionale? Allora, diciamo che inizialmente è stato complicato riuscire a conciliare gli allenamenti della squadra, dei mondiali e anche gli impegni scolastici, però con il giusto impegno sia mentale che anche quello fisico si riesce sempre a conciliare tutto perché con la passione che ci mettiamo ogni giorno nel fare questo sport riusciamo a ottenere grandi risultati. 7, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 8, 8, 9, 10, 100, 100, 100, 100. Benissimo, siamo giunti alla fine del video. Mi raccomando lasciate un like e non dimenticate di seguirci su tutti i profili social. A presto!